Missionarie senza frontiere, evangelizzatrici gioiose al servizio dei poveri, così il Papa ha descritto le piccole suore missionarie della carità incontrate nella sala del concistoro. A loro il Pontefice ha chiesto di superare i rischi dell'autoreferenzialità e della rigidità autodifensiva, di essere invece dono in ogni contesto della vita, uscendo da se stesse, camminando e seminando la comunione col Padre. Al missionario, ha sottolineato Francesco, è richiesto di essere una persona audace e creativa, soprattutto in questo tempo pieno di contraddizioni che esige di ripensare obiettivi, strutture e metodi, abbandonando la logica del si è fatto sempre così, piuttosto avendo sull'altro uno sguardo che non giudichi e si commuova, uno sguardo che guarisca e conforti. Ancora, chi sceglie la missione deve essere una persona libera da zavorre e catene, che vive senza nulla di proprio, rifiutando comodità, acidi, amondanità, ostacoli all'annuncio del Vangelo. Altro requisito fondamentale del missionario è essere docile allo spirito, così da cogliere la presenza di Cristo in tante anime scartate dalla società e avere una spiritualità radicata sulla parola di Dio. Infine il Papa ha insistito affinché ogni missionario diventi profeta di misericordia senza mai lasciarsi rubare la gioia dell'evangelizzazione. L'anno della vita consacrata si è concluso mentre iniziava il giubileo straordinario della misericordia. Questo cammino ci ha chiamato a pulire i nostri occhi e i nostri cuori dall'indifferenza per accogliere e offrire al mondo con umiltà, come servi, la profezia della misericordia a somiglianza di Dio Padre. Il vostro carisma di servire dei poveri vi chiede di esercitare la profezia della misericordia, cioè di essere persone centrate in Dio e nei crocifissi di questo mondo. Lasciatevi provocare dal grido di aiuto di tante situazioni di dolore e di sofferenza. Come profetti della misericordia, annunciate il perdono e l'abbraccio del Padre, fonte di gioia, di serenità e di pace.